oggi un video per mettere in guardia i precipitosi ovvero quelli si faccio la lavorazione poi tanto la pianta pian piano si riprende volevo farvi vedere una differenza nel rispettare i tempi e anche una cosa che a livello fisiologico già la pianta qualche scelta sua la fa allora questo è un esempio di un silvestre lavorato che fortissimo scoppiava di vigoria quindi lavorato in primavera e vediamo che comunque pur essendo forte oddio di gemmine ne ha fatte però vediamo che comunque sono abbastanza piccine diciamo è una cosa bilanciata la pianta sta bene non si può dire nulla però volevo farvi vedere un suo fratello che con la stessa coltivazione non ha subito lavorazioni di styling allora stiamo a vedere da vicino come sono le gemme che in realtà non è la gemmina ma ogni ramo ha un grappolo di gemme guardate quante sono guardate tra un ago e l'altro scoppia di gemme riprendiamo anche un altro ramo è tutta la pianta così è qua abbiamo qua ho già fatto delle selezioni qua ho già tolto alcune gemme ma vedete che ancora devo devo togliere ancora qua ancora sono cardioide di gemme pazzesco allora il concetto qual è è normale che quando andiamo a piegare un ramo è come stringere che ne so un tubo dell'acqua come ritorcere un tubo dell'acqua c'è un calo di vigoria passano meno flussi se noi andiamo a lavorare su una pianta ben preparata avremo comunque un buon risultato una buona gemmatura e anzi magari qualche cosa che per il bonsai può essere conveniente perché comunque la gemmatura è più equilibrata e meno forte però attenzione che se andiamo a lavorare una pianta che non ha tutto questo vigore ci si può sedere va a finire che quei rami magari verranno abortiti poi magari si allungheranno i tempi di lavorazione perché bisognerà ripartire da nuove gemme allora il concetto qual è teniamo le piante molto forti così come abbiamo visto nel secondo esempio e dopo lavoriamole se possiamo c'è di mezzo un anno una stagione ma sicuramente sull'opera finita andremo in termini di tempo a guadagnare del tempo pensateci non siate precipitosi magari che ne so fate la legna secca potate potate il giusto perché potare da vigore alla pianta ma andare a fare pieghe esattamente piano nel momento giusto bye